Salve a tutti ragazzi ed eccoci in questo nuovo video sono Peppe GioGamers e come l'avevo provesso l'ultima volta vi ho portato qui sul mio canale ragazzi si avete sentito bene Call of Duty avete capito bene veramente Comunque ragazzi Call of Duty all'inizio cioè ragazzi è un gioco spettacolare è un gioco veramente spettacolare Adesso non metto la cosa al massimo va bene ragazzi Comunque questa è la modalità infetto che non c'è cosa è la modalità infetto Allora all'inizio della partita uno è un infetto cioè che c'è solo un cortellino Sparare ragazzi non lo so come si chiamava Dunque una cosa spinata una palla spinata e anche questo qui che serve per riuscire il punto di sponamento Sia degli amici che il nostro quando moriamo Dunque ragazzi come vediamo siamo già infetti Vediamo 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 No attenzione no c'è non c'è Adesso riproviamo Vediamo uno qua Vieni qui Ucciso vai Chi ha aumentato di nuovo per noi Andiamo adesso Questa parte Vediamo c'è ne uno Noi lo aggiriamo No 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 dov'è dov'è E' dietro no c'è ucciso Non lo capisco perchè ogni volta che c'è ucciso non ha ricevuto rifornimenti Boh Ah Questi bug Eh si I bug ci sono in ogni gioco Comunque adesso proviamo un attimo ad ucciderne un altro Dov'è 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 C'è l'ho lì Pum Tramatella Rimuovendo Vieni qui Qua si è ucciso Riproviamo Scegliamo Vai fatemela fare a me questa uccisione Naturalmente ragazzi sto giocando online come vedrete Ci sono vari nomi E Ragazzi voi ditemi voi se portavi la storia Se vabbè Voi scrivetemelo nei commenti Se volete proprio la storia Comunque io forse Ve la porterò Dipende dal tempo che ho in disposizione Perchè Poi da lunedì ci avrò meno tempo Potrò caricare meno video Perchè sarò occupato Quindi Eh ragazzi Sarò occupato E allora Proviamo un attimo a distruggere No Dovete ne salti cioè Ok ragazzi Lo so che ve l'ho portato questo gioco un po' di tanto Perchè tra poco Uscirà che l'ho fiducia di Black Ops 3 Che forse comprerò anche quello più in là Comunque Perchè all'uscita costerà tanto Io non tengo soldi a spendere quindi Adesso non riusciamo a trovare gli ultimi due Poi ragazzi Scusate se forse Vi sentirà bene l'audio Poi lo setterò Perchè Un attimo Adesso Lo setto Ecco qui ragazzi ci siamo Di nuovo E ho settato un attimo l'audio Ok Bene ragazzi Ci facciamo un'altra partita Questa cosa ti farò con essere proprio scarso Scarsa Scarsa Ok Quasi grado 17 Quasi grado 17 Adesso apriamo i nostri pacchetti Non ci credo Non ci credo Non ci credo No raga Non ci credo Mettila 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 C'è la maschera del leggendario Non ci credo Bene Allora Questa qui Già ce l'avevo Questa qui Non mi serve Ce l'ho anche più forte Quello professionista Neanche ci serve Quindi Perché già ce l'avevo il guardia Comunque ragazzi Guardate qui il mio personaggio Fa Bastante che scrivo come vestito Però Dipende Ma io È più importante La resistenza Non ce le fotte a noi come vestito No Vabbè Adesso Se parte la partita fra due secondi Ok È partita la partita È partita la partita È partita la partita È strano Vabbè ragazzi Comunque Come vi dicevo No Vi do di un'altra cosa Tra poco formatterò anche il computer E arriverà anche la webcam Quindi Vi do di un webcam Eh Non è partita la musica E quindi Fillo Allora ragazzi Comunque Adesso Facciamo un'altra partita In effetto Abbiamo partita naturalmente Speriamo che non siamo Ne infetto Ok Adesso ci abbiamo 15 secondi Per Coprirci le spalle Da qualche parte Ragazzi però Con Quel casco camminiamo Molto più lenti Naturalmente È pesante Aspetta Aspetta Vediamo Vediamo questo qua Se Ok Non siamo infetti Non siamo infetti Non siamo infetti Mi scordo sempre di mettere l'occultamento ragazzi Perché sono bloccato Anche L'exo L'exo Con l'a Di occultamento E mi scordo sempre di metterlo Tempo aumentato Tempo aumentato Allora adesso Vediamo Quando persone stanno morendo Stiamo Vincendo Per ora Perché Per ora Gli infetti ne sono 5 Però Mano a mano ragazzi Gli infetti Sono molto più veloci a correre Perché Sì Sono veloci E stiamo anche perdendo Sì Ho capito Tempo aumentato Se stai sciolando Il tuo sto tempo Aumentato Allora Adesso Non sono sicuro Qui sono protetti Infatti Do infetti Do infetti Do infetti Do infetti Do infetti Cavolo Ah no no Non ne ha trafficati anche l'arma Eh no No Vabbè ragazzi Sono infetti Ma io così Non lo scherzavo Vediamo così Noi siamo più veloci Sicuro Allora dove sono? Allora ce n'è uno qui Che se ne scappa E dove vai? Fuori dalla mappa? Ah no Di qua Ecco Tempo aumentato di nuovo Adesso Cerchiamo di Andare qui dentro Vediamo se c'è Qualcuno Noi Qui non c'è nessuno Di qua neanche Non c'è nessuno da nessuna parte Stiazza Vai ragazzi Uccidete Uccidete l'ultimo Ok E vincono di noi Infetti Perché gli atlas sono sempre più Che cazzo Va bene ragazzi Qui Cominciamo la terza partita Spero che Faccio tre partite E non una Ragazzi perché Comunque Comunque Sprego molta connessione Perché Comunque per attivare Una lobby Così si chiamano Non si chiamano Lobby Però c'è stanze Lobby Sese cosa Ehm Per attivare una lobby Ci vuole Merpò Niente più Abbiamo sbloccato? Niente più Ok Oh Merda Allora Vediamo un po' Il coso leggenda qui Bottina a tempo Vabbè questo qui Non ci serve niente Veramente Poi adesso operativi No Crea una classe Sì un attimo Per un attimo modificare Una cosa Allora lui Gli mettiamo Il tempo extra Però la mettiamo questi ragazzi Lui 360 gradi No 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 Allora Sì 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 Invece sì Ehm Eh lui gli mettiamo l'occultamento Sì perché Può essere L'ho levato proprio Beh mettiamo lui Facciamo prima Va bene così Se no ci mettiamo Terminando Solo per prenderlo La partita inizierà Fra pochi secondi Fra pochini Secondini Speriamo che riuscirò a fare il video Ma non credo Perché Teniamo pochi minuti C'è 4 minuti 5 minuti Allora Ne ho sprecato Un altro mezzo minuto Solo per caricare Che diamine Cioè i caricamenti Sono infiniti in questo gioco Come on Forza Ah ci abbiamo fatto Altro mezzo minuto Per caricare qui Allora Allora tu Ah no E' l'arma a vapore Benissimo Quindi E' una delle armi Quasi più potenti del gioco Però ci sono armi Molto più potenti Perché Tra l'altro In quest'ultimo aggiornamento Ho aggiunto Altre cose Quindi Allora Io direi di starci Qui sopra Fammi passare amico Amico dietro di te Grazie amico Se mi fai passare forse Ok Mi ha fatto passare Buttati gioco Bravo Allora Speriamo che non troviamo nessuno Per ora Perché Non ci stiamo un po' No Direi di non camperare Sapete Cioè Io dico di buttare un po' di granatelle Qui In città così E vedere se qualcuno lo capisce poi Perché Sì Allora Qui Io direi di non buttarmi Perché mi sembra una po' Una Malstrada Poi ragazzi Allora Vediamo Di qui Non c'è Nessuno Sì No Aspetta Ho visto qualche movimento Sulla minimappa Non so se viene Siete accorti Ho lasciato qualche movimento Sulla minimappa Eh Vediamo un po' Ecco Infatti Lo sapevo Lo sapevo Stando di dall'altra parte Nella mappa Andiamo andati qua Boom È distrutto Ho fatto l'assist Sì ho fatto l'assist Un assist Un assist Intanto il palo che se ne è caduto Chissà come Boh Allora Non lanciate granate amici Se no ci suicidiamo Perché a volte Non so se qui c'è fuoco amico Dando la mia granatella di terra Oh Distrutto Headshot One kill Uh Via via No Ci ha colpito Allora ragazzi come sono veloci Perché Io mentre faccio il rincuro per ricaricare Loro mi distruggono No per questo questi armi Dove vai eh Sto dicendo perchè sono questi armi Non sono tanto Efficaci In questi test match No non abbiamo colpito Attenzione Ok va bene Va bene va bene Dove è il mio vado Stavo cercando il mio drone Chi vorrebbe sapere Però non c'è Allora ragazzi Non troviamo Quell'altro Quell'altro Che ne dobbiamo distruggere Vabbè distruggere poi Dobbiamo massacrare E fare a pezzi Mille pezzettini Proprio Minuscoli Quando una pata di slime In minecraft Ancora più piccoli di quelli E li dobbiamo proprio No è meglio di no Li dobbiamo soltanto massacrare E distruggere E fare fuori Per sempre E non devono neanche apparire Infetti Prima che Inesca la partita Ok ragazzi Vi ricordo Commentate Condividete Iscrivetevi E lasciate un bel like Cioè La fate apprendere Questo sondro? Dov'è? No dov'è? Ah eccolo Cavolo Lo vedete? Cioè come siete veloci Quando Ah No guardate Cioè non lo prendono Cioè Non state giocando a basket Ti diamo Cavolo che devo finire il video Forza Vabbè ragazzi Comunque Per questo video è tutto Quindi vedete Commentate Lasciate un bel like Dov'è? 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 Ragazzi Ciao Ciao!